La Fed si appresta ad alzare i tassi di interesse, grandissima paura sui mercati, volatilità sull'azionario, anche l'obbligazionario. Sembra dover perdere quota e io mi inizio un nuovo piano d'accumulo. Mi sembra abbastanza giusto, miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi, iniziare un pack proprio quando i mercati iniziano a calare. Quale? Il momento migliore per iniziare ad accumulare a prezzi via 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 che passa il tempo sempre più bassi? Ovviamente si sa che per iniziare un piano d'accumulo è meglio partire quando i mercati di riferimento stanno scendendo, perché chiaramente all'inizio comprerete più quote a un prezzo più basso e poi se ne beneficerà più avanti. In cosa farò questo pack? Quale sarà lo strumento che utilizzerò per accumulare? Lo andiamo a vedere in questo video. Qualche giorno fa avevo parlato della mia asset allocation attuale e avevo lamentato il fatto che, visto le ultime operazioni di dicembre, mi ero sbilanciato un pochino troppo sull'azionario a scapito dell'obbligazionario e della liquidità. Movimenti percentualmente piccolini, ma secondo me potrebbe essere all'uopo un rientro nei ranghi, quindi un pochino di obbligazionario in più, ma chiaramente i rischi sono tanti. Perché? Perché l'inflazione a ottobre ha toccato il record dal 1990 con un più 6,2%, perché la Fed apre a un aumento dei tassi di interesse, vediamo alcune tra le notizie più famose, però aumento di interessi che rispetto a quanto previsto a dicembre dovrebbe essere più veloce e più nell'immediato. Altra notizia, la Fed ha fretta di alzare i tassi e riduce il suo bilancio, quindi riduce i soldi che immetterà sul mercato, anzi dovrebbe addirittura gradatamente rientrare da questa esposizione. Quindi piccola stretta in vista per la Fed e Iann Lingen, responsabile della divisione di strategia sui tassi USA di PMO, ha riferito alla CNBC di ritenere che l'ottimismo sull'economia in un contesto di preoccupazioni per l'inflazione porterà i tassi decennali al 2% nel corso del primo trimestre e da lì saranno l'economia e la Federal Reserve a determinare quanto in alto saliranno ancora. Quindi, solida marcia al rialzo dei rendimenti una volta superata la soglia del 2%, questa la previsione. Inoltre, vicepresidente responsabile strategist degli investimenti della divisione di Private Wealth Solution Group di Blackstone hanno scritto che a loro avviso il mercato dei bond inizierà a rispondere all'aumento dell'inflazione e al tuppering della Fed con i tassi sui treasuries, ovvero i titoli di Stato a dieci anni che saliranno al 2,75%. La Fed completerà i suoi tapperi e alzerà i tassi quattro volte nel 2022. Quindi, periodo buio in previsione per le obbligazioni, i titoli di Stato americani, pertanto potrebbe essere un bel momento per iniziare un piano d'accumulo, ne parleremo subito, like a questo video, iscrizione se non l'avete ancora fatto e direi che siamo pronti per partire con l'analisi dello strumento sul quale ho iniziato il piano d'accumulo. Piccolo preambolo ancora, cambio euro-dollaro l'abbiamo visto chiaramente molto volatile nel corso degli anni, qui siamo partiti dal 75%, pertanto investire in titoli di Stato americano ci espone oltre alla volatilità dello strumento in sé anche alla volatilità del cambio euro-dollaro, ma è anche vero che entrando con un piano d'accumulo via via nel tempo si mediano un pochino le posizioni. I titoli di Stato americani a dieci anni negli ultimi 60 mesi, ovvero negli ultimi 5 anni dal 2017, si sono mossi in questa maniera, come state vedendo adesso, in un range più o meno tra il 3% picco massimo del 2018 e lo 0,5 circa di fine 2019. Adesso siamo all'1,76%, più o meno a metà di questo range, però il rialzo negli ultimi mesi è stato abbastanza importante. È anche vero che allargando il grafico agli ultimi 50 anni, se noi andiamo a cavallo degli anni 80, a fine anni 70, inizio degli anni 80, con l'inflazione galoppante che c'era, i rendimenti dei titoli decennali erano molto molto alti, soprattutto se confrontati con quelli di oggi. Addirittura avevano superato il 15%, poi c'è stato un calo, come vedete, sostanziale nel corso degli anni e si è arrivato al quasi 0 dei nostri anni. Ho iniziato quindi il mio piano d'accumulo su un ETF. Ho scelto un ETF sul quale non pago commissioni, visto che comunque l'importo è abbastanza piccolo ogni mese. Sono andato quindi su un Lixor acquistato su Directa. Io poi analizzo questo strumento, ma chiaramente poi ognuno dovrà fare le proprie analisi. Non si tratta di consigli di investimento, è sicuramente un investimento, come vedremo, abbastanza rischioso, anche se si tratta di obbligazionario. Quindi attenzione a quello che fate. Però io sono disposto a correre il rischio di accettare la volatilità alta, perché comunque ritengo che con un piano d'accumulo questa volatilità si possa comunque contenere e poi mi piace il settore dei titoli di Stato americani. Allora il piano d'accumulo che ho iniziato è di 240 euro mensili. In realtà, possiamo vederlo qui, l'ETF quota attualmente 135 euro. Quindi alle quotazioni attuali e fin quando non scende sotto i 120 euro il piano d'accumulo sarà di una sola quota. Quindi acquisterò soltanto una quota di 135 euro. Se dovesse scendere sotto i 120, chiaramente acquisterò due quote. Tanto meglio, i prezzi sono scesi, io aumento il mio pack. Se addirittura, ipotesi al momento, abbastanza improbabile, ma non si sa mai sul mercato, dovesse scendere addirittura a 80 euro il valore della singola quota, allora a quel punto comprerai tre ETF ogni volta. In cosa investe questo ETF? In pratica investe nell'indice Bloomberg, titoli di Stato americani a oltre 10 anni, quindi a lunghissima scadenza, denominati in dollari Stato intensi emessi appunto dal tesoro americano e sono rating investment grade, doppia, proprio come piace a me visto comunque la lunga durata. Il patrimonio del fondo è medio, 229 milioni di euro, in realtà poi sul sito di Lixor ho visto addirittura 300 milioni in gestione. La volatilità è molto alta, è 15,28% e l'andremo a confrontare con un indice azionario per vedere qual è la differenza. Valuta, dollaro, l'abbiamo detto, replica fisica totale, costo annuo bassissimo 0,07%, praticamente niente, distribuzione semestrale è un ETF che esiste da novembre 2010, quindi lunga storia per questo ETF. Rendimenti negli ultimi 4 anni sempre positivi, quest'anno meno 3,74%. Questo il rendimento dell'ETF esclusi i dividendi, li ho voluti togliere, possiamo dire che in 10 anni l'ETF ha raddoppiato il proprio valore, in più ci sono stati dividendi che sono stati distribuiti soltanto a partire dal 2016. Prima infatti era ad accumulazione questo ETF. Chiaramente è salito in scia all'aumento delle quotazioni di titoli di Stato a lungo termine e anche il dollaro ha fatto la sua voce. Però c'è da dire che dai massimi del 2020, lo vediamo qui, l'ETF è sceso e non di poco. Il rendimento da dividendo attuale è del 2,3% lordo, ovvero il 2 netto. In questo caso la tassazione non è del 26% ma è solo del 12,5%. Però è anche interessante vedere come nel 2018 i dividendi erano di circa il 20% più alti rispetto ad adesso. Quindi fra qualche anno non sarebbe così assurdo aspettarsi comunque un rendimento un pochino più alto, magari anche vicino al 3% lordo, quindi oltre il 2,5% netto. Vediamo il confronto, lo stavo dicendo, con un ETF sullo Standard & Poor's 500, in particolare lo Spider. È interessante vedere proprio come in realtà l'ETF principe sull'azionario e un ETF sui titoli di Stato a lungo termine siano spesso decorrelati. Infatti anche negli ETF, scusatemi, nei portafogli lesi, quelli pigri possiamo dire, composti magari da solo 4 ETF, spesso una parte, un 25% viene dato proprio ai titoli di Stato americani a lungo termine. Possiamo vedere infatti come nel 2012-2013 siano andati in controtendenza, solitamente saliva l'azionario e scendeva l'obbligazionario e viceversa. Stessa cosa nell'arco tra il 2016 e il 2018. Molto, molto evidenti durante la crisi Covid, addirittura quando i mercati azionari sono scesi ai minimi, il rendimento dei titoli, o meglio i prezzi dei titoli di Stato americani a lungo termine sono schizzati in alto, sono schizzati veramente alle stelle, per poi rientrare gradatamente quando il mercato è rimbalzato con vigore, possiamo dire. Quindi vediamo appunto questa decorrelazione e potrebbe essere interessante quindi inserire in portafoglio qualcosa di decorrelato e tra l'altro l'asset class dei titoli di Stato americani è qualcosa che attualmente manca nel mio portafoglio. La volatilità l'abbiamo detto all'inizio e pensate che uno strumento obbligazionario di questo tipo, proprio per la sua duration lunga, ha una volatilità molto alta, tant'è che a seconda del periodo che andiamo ad analizzare è una volatilità che va dal 14 al 16%, in linea quasi con appunto lo Spider Standard & Poor's 500 che va da un 14 sempre al 22%. Chiaramente qui la volatilità è calcolata anche sulla base di quanto è successo nel marzo 2020, quando c'era stata una volatilità molto alta. Però ad esempio nell'ultimo anno la volatilità dell'ETF obbligazionario è stata addirittura superiore a quello dell'ETF azionario. Quindi mi sento di poter dire che tutto sommato strumenti di questo tipo possono andare bene per un piano di accumulo proprio per sfruttare la volatilità. Dicevamo di duration. Il nome stesso, l'Xor Treasury 10i+, alla fine parla già da solo, proprio perché la duration dei titoli in portafoglio è di 18 anni, quindi lunghissima scadenza. Tant'è che metà dei titoli più o meno hanno una scadenza tra i 15 e i 25 e l'altra metà oltre i 25 anni. Sono tutti titoli di Stato americani, rating doppia in dollaro, l'abbiamo già detto. Insomma, un piano di accumulo molto diverso dal solito. Sono partito abbastanza cauto, ma nel caso i prezzi dovessero scendere, appunto, in automatico andrei ad acquistare anziché una quota, due quote, cercando di aumentare il ritmo del piano di accumulo. In questo modo cerco di automatizzare ulteriormente i miei investimenti. Chiaramente mi mantengo sempre alla mia liquidità per poter sfruttare l'eventuale volatilità sui mercati azionari, ma per quanto riguarda l'obbligazionario ho quindi implementato al PAC che avevo attivato qualche mese fa sempre su un obbligazionario corporate in dollari, anche stavolta un obbligazionario titoli di Stato americano sempre in dollari. Ovviamente si tratta sempre di strumenti a distribuzione perché l'obiettivo è quello del pensionamento anticipato a 50 anni. So che avrò fatto una scelta un pochino in controtendenza, ma mi piace andare in controtendenza, mi piace l'approccio contraria negli investimenti, immagino che a molti di voi non sarà piaciuta la mia scelta, ditemelo nei commenti e ovviamente fatemi sapere se vi è piaciuta o se non vi è piaciuta questa mia decisione di piano d'accumulo. Vi mando un caro saluto a tutti, a presto da Lorenzo e ciao!